In seguito ai controlli sanitari effettuati in questi ultimi giorni dalla Proloco di Perito sui propri collaboratori in vista dell'inizio della festa del Bosco, il Presidente Antonello Marcelli ci tiene a precisare che non c'è nessun caso positivo nello staff. Come Proloco Perito ci teniamo a precisare che non c'è nessun caso positivo all'interno dello staff della festa nel Bosco. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti dei tamponi su larga scala e alcuni che hanno partecipato a questo tampone sono risultati positivi, però sono persone che non hanno a che fare con la manifestazione. Ci teniamo a precisarlo perché nelle scorse ore c'è stato un susseguirsi di voci infondate che appunto riferivano di presenza di positivi all'interno della manifestazione. Ovviamente non è così perché stiamo realizzando una manifestazione in sicurezza, con scruvolo, con coscienza, affinché tutto scorra senza problemi.